diciamo che lei è stata l'artefice di tutto quello che è stato il mio cambiamento lavorativo ma anche personale Greta è sicuramente ciò che rappresenta la mia quotidianità oggi quindi questo cane mi ha sicuramente dato tutte le energie per poter stravolgere la mia vita a me diverte tantissimo perché poi io me la osservo, me la guardo, me la studio e lei è stata sicuramente parte di un cambiamento anche nella visione del mondo perché io non avevo mai vissuto il tempo come lo vivo insieme a lei